Inizia questa volta dalla Serie D femminile dal big match del Palabaniella tra Sara Pallavolo Megna e San Rocco Novara, gara di alto vertice di classifica, il resoconto dei risultati del volley regionale nel weekend appena concluso. Ha vinto alla grande la formazione di coach Roberto Pesce, parziali 25-20, 25-22, 25-21 per il 3-0 conclusivo. La squadra verde-viola resta decisamente in zona play-off. Ed ora la Serie C maschile con la sconfitta di Camping Ghisolino Alziora a Vercelli, per i ragazzi di Matteo Azzini, finale nefasto sul 3-0, parziali 25-18, 25-19, 25-19 e vittoria Bicciolana tutto sommato meritata. La Icarona ha vinto al quinto set in quella del Palaigor Alterdoppio contro Volley Novara, parziali conclusivi sulle 25-22, 28-30, 22-25, 25-16, 12-15 per il 2-3 finale a favore della squadra di Graziani, mentre domenica sera al Palaraccagni studio immobiliare VCO Domodossola ha perso contro la terza forza del campionato Polisport Chieri, finale sullo 0-3, parziali 21-25, 17-25, 17-25. Attenzione al prossimo turno, per Domo ancora una delle prime in classifica. In Serie C femminile gara interna con successo al quinto set per Vox Rosalziora, la compagine di Fabrizio Balzano contro Vela Venaria vince al tie-break sprecando un nettissimo doppio vantaggio e dovendosi poi lottare il risultato arrivato con finale sul 3-2, grazie ai set conclusi 25-15, 25-13, 21-25, 25-27, 18-16. Samaborgo ha perso abbastanza in maniera inattesa in casa contro la terz'ultima forza del campionato Volley Pianezza. Le Cusiane chiudono sull'1-3, parziali 17-25, 17-25, 25-23, 14-25 a sfavore di Clelia Branca e compagni che ora hanno solo due punti di vantaggio sulla zona play-out. Per Pavic Romagnano invece una bella vittoria al Palace Gansetta contro ZS-CH Valenza, un successo importante perché allontana di tre punti la zona pericolosa di classifica. È finita 3-0, parziali 25-17, 25-20, 26-24 e per la formazione di coach LLK sono tre punti d'oro.